Chiaramente questa audizione del Presidente Acquaroli e di Salta Martini, dell'Assessore della Sanità e anche del Direttore Generale della nostra provincia che si è insediato tre mesi fa e sta iniziando a lavorare. Credo che più che altro sia un'esposizione da parte loro di quello che sta succedendo e le domande nostre sulle criticità, perché le cose che funzionano non abbiamo bisogno di rilevarlo, abbiamo bisogno di dire quello che non va e che va migliorato. Quindi è un'occasione importante per tutti i consiglieri comunali, quindi per tutti i cittadini, per capire quale sarà il progetto futuro, l'applicazione di questa nuova riforma sanitaria e l'atto aziendale che ancora deve essere fatto da parte dell'Ast. Quindi ecco, un giorno importante, ma chiaramente noi vorremmo stare vicino a questo tema, come abbiamo sempre fatto, ma adesso è arrivato il momento di agire e quindi su questo mi sono trattenuto anche la delega alla sanità, perché comunque il sindaco deve dare garanzia ai propri cittadini sul tema della salute. Prima lo faceva Elisabetta Foschi, continuerà a farlo insieme a me, perché gli ho chiesto comunque di collaborare, perché ha fatto un ottimo lavoro negli anni passati, ma questo per dare una risposta non solo ai cittadini di Urbino, ma per parlare della sanità del nostro entoterra, ma anche di quella della costa, perché per noi avere un'eccellenza a Pesaro o averla a Fano è importantissimo. L'importante è che ognuno faccia il suo e l'emergenza urgenza sia garantita a tutti i cittadini. Le visite, tutto quello che riguarda l'assistenza al cittadino, a partire, quello che ho detto all'assessore Saltamartini, a partire dai medici di base, perché la sanità parte soprattutto con una buona organizzazione dei medici di base.